E' partita da sopra? Sì Stai ancora a finire il prototipo Sopra un marker marker Sì, vai prova Andiamo a se Ho fatto una curva Ho fatto una curva A pelo così Ho fatto così Ah così? Sì Come fanno quando i piloti fanno così Ah sì sì lo vedo E' uguale Solo che ho i pedali quindi non posso Dai vediamo Un raso E' a me Chi E' a me E' a me E' a me E' a me E' Sì, adesso l'ho fatto più che l'altro, senti io che ti ha strigliato il pedale, dopo quando è finita mettiamo tutta la sua carena da posto, perché non può essere solo così infatti adesso devo ancora finirla, stiamo riverniciando quella sopra, le carene, è bello oggi che è tutto per provarla però va Grazie